Sono già in carcere perché arrestati la scorsa settimana nell'ambito di un'inchiesta sull'organizzazione di tipo mafioso Sacra Corona Unita. Quattro dei cinque presunti rapinatori nei confronti dei quali i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare per rapina. Sono numerosi gli episodi ricostruiti. In un caso la vittima titolare di un supermercato è stata percossa riportando la doppia perforazione del timpano e conseguenze all'udito. Il gruppo agiva secondo quanto accertato in tutta la provincia con un fucile a canne mozzate. In una circostanza poi è stato un tatuaggio sul dorso della mano a tradire uno dei componenti, in un altro il sistema di localizzazione GPS di un iPhone rapinato e poi buttato via in un terreno nei pressi dell'abitazione di uno degli indagati. Grazie.